buongiorno e buon lunedì allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanella per ricevere le notifiche e ringrazio sempre che condivide i miei video bene settimana di ricariche con lavorazioni previste la sera del 24 e ricariche nel primo pomeriggio del 26 sto dicendo quello che è previsto e quello che tecnicamente ha anticipato l'inps su domanda precisa che avrebbero anticipato ricarica il 26 speriamo che mantengano le promesse non c'è la questione del ponte lungo che c'è stata per metà mese per cui penso che sia così comunque sia mercoledì che venerdì faremo i soliti due video qui vi chiederò di avvisare se compaiono le ricariche e di avvisare se compaiono le lavorazioni in modo che lo sappiano anche quelli che non hanno il modo di verificarlo direttamente. Io sto cercando di avere notizie su procedure eventuali da seguire per risolvere alcuni dei vostri problemi il problema è che i nostri referenti sono tutti in ferie sono anch'io in ferie però giustamente non vado a disturbare persone che vorrebbero un attimo starsene tranquilli hanno anche le loro ragioni quindi dovrete avere un attimo di pazienza e comunque andate sempre all'inps a vedere cosa è successo è importante perché io da fuori non posso fare molto e ricordatevi se avete dei problemi a comunicare queste cose perché nei commenti sono cose pubbliche c'è sempre la mail dopo ve la rimetto ancora sotto. Allora torniamo alle lavorazioni speriamo che vada tutto a posto poi seguiranno a pioggia le lavorazioni dell'assegno unico per settori RDC il primo settembre ci sarà il pagamento delle pensioni e qui bisogna chiarire una cosa perché vorrei che qualcuno capisse fischi per fiaschi a settembre non ci sono questi aumenti i famosi aumenti governativi cominceranno da ottobre ma in realtà non sono aumenti semplicemente il governo anticipa la perequazione sulle pensioni e sugli stipendi cioè quell'aumento che viene calcolato in automatico all'inizio di ogni anno da gennaio questo aumento scompare cioè voi adesso prenderete 5 euro in più non sto scherzando sulle cifre sono veramente basse 5 euro in più netti li prenderete a ottobre novembre dicembre poi a gennaio questi 5 euro netti verranno assorbiti dalla perequazione non c'è nessun aumento nessun gesto di pluralità del governo ha ragione Alessandro o Mr. Lull è una presa in giro è una presa in giro perché non vi troverete più questo aumento l'anno prossimo perché semplicemente viene anticipato l'aumento dell'anno prossimo di tre mesi con cui non farete praticamente nulla ecco perché la situazione economica è tale che servirebbero investimenti corposi detto più che dare soldi e buttare soldi in bonus che poi non funzionano servirebbe un calmiere a meno dei prezzi dei prodotti base che sarebbe questa la cosa importante attualmente il potere d'acquisto dell'aere di ci sta calando in merito poi alla questione se cade quando si va a votare se vince la Meloni e compagnia anzi non è che vince e il giorno dopo l'RDC non c'è quindi io non so perché so che poi girano già ste patacche a settembre non succede niente ma neanche a ottobre cioè prima ci sono le elezioni si deve formare un governo per abolire l'RDC serve una legge ad hoc e soprattutto come ha fatto notare Fabrizio in un commento servirà un ministro degli interni con i controcoglioni perché secondo me visto l'andazzo dell'economia in Italia visto l'andazzo della crescita dei costi dei costi delle materie prime e quindi dei costi a prodotto finito si rischia un'esplosione sociale non da poco cioè tutti quelli che tra l'altro ora schifano guardate che non parlo solo dei grossi o dei andati di zucca come ebriatore perché questa sensazione si sta diffondendo anche tra i piccoli borghesi che sono quelli che teoricamente dovrebbero tutelarsi perché se le cose continuano ad andare così non solo i loro stipendi non saranno sufficienti ma se si perde il lavoro è difficile recuperarlo subito e l'RDC sarebbe anche la loro ancora di salvezza senza quello io non so cosa verrà introdotta come misura di salvaguardia ma ve l'ho detto stando i ragionamenti della Meloni secondo lei e secondo la branca delle persone che la seguono il sistema statale il sistema del mercato del lavoro italiano è perfettamente in grado di assobbire i 50 anni non assorbi i 30 anni ma assorbi i 50 anni siccome questa è una bufala enorme non so tutti quelli che pensano ad essere sicuri adesso stiano bene attenti stiano bene attenti perché se non c'è quello e non viene messo null'altro si creerà una catena enorme di milioni di nuovi poveri poveri assoluti o poveri relativi ma comunque alla soglia minima della sopravvivenza ma tutti questi ragionamenti li faccio io perché cerco di analizzare quello che sta accadendo la propaganda i ragionamenti non li fa non li fa e attualmente la politica italiana è dello stesso livello di quella di Farage di altri personaggi che in Inilterra mandarono a carta e 48 da Brexit dicendo che i soldi che andavano all'Unione Europea bla 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 e poi quando gli chiesero conto di questi soldi dovessero ammettere che quei soldi lì non ci sono mai stati ce li sono inventati loro queste spese per cui stiamo bene attenti lo dico proprio a quelli che non hanno questo rischio ma potrebbero trovarsi nella condizione di averne bisogno e non avere nessun paracaduto che gli aiuti non vi dico di votare in un certo momento io insisto sul voto utilitaristico ma dico queste persone però che si prendono la responsabilità delle loro scelte e quindi non piangano miseria dopo una volta che sono scardinato l'unico meccanismo di salvaguardia per quanto malfatto che esiste attualmente in Italia e devo chiedere anche un altro punto perché secondo me qualcuno pensa che oh sparisce l'RDC chissà cosa faranno questi canali allora ho promesso che a me tocca a zero ma non solo a me noi penso di poterlo dire a nome di tutti non viviamo con i guadagni di Youtube ma neanche per sbaglio non è una professione è una passione è un impegno civile e quindi se non serviamo più per qualsiasi motivo non è un problema chiudiamo baracca o semplicemente io continuerò a seguire le situazioni di difficoltà perché i poveri non scompaiono con l'RDC anzi diventeranno molti di più ma caricherò magari molti più video di storia perdono iscritti ah me non lo faccio per i soldi di Youtube come penso nessuno dei canali che segue e che vi supporta lo faccia per i soldi di Youtube altrimenti parleremo d'alto altrimenti staremo per così dire sul pezzo che fa che fa graduatoria che fa visual che fa like parleremo sostanzialmente del vuoto straparleremo di tante cose senza rendersi conto che la situazione in Italia è disastrosa e che nessuno attualmente vuole veramente mettersi le mani ma lo capisco anche per metterci le mani servirebbe un coraggio da Leone e scusatemi oltre a essere la peggior classe politica della storia italiana escluso il ventennio questa mi sembra anche la classe politica più vigliacca ciao a tutti